Dal vivo è una metodologia nuova basata su un lavoro fisico atletico importante che sicuramente ci darà dei benefici, almeno me lo auguro. Da parte nostra c'è la massima disponibilità, dobbiamo cercare di adattarci, di adeguarci e sicuramente avremo dei benefici. Conoscete meglio di me il mister, i suoi metodi di lavoro, non conoscevo però come ho detto prima la sua ironia e quando una persona è ironica significa che è una persona molto intelligente. Cosa è cambiato rispetto al Pescara di Oddo oltre al risultato? È cambiato che abbiamo vinto una partita, anche se sono convinto che con una vittoria non abbiamo risolto i nostri problemi. Bisogna dare continuità alle prestazioni, sappiamo che la classifica è difficile, il campionato è impegnativo, però se dovessimo dar seguito alle prestazioni come quella di domenica è ovvio che la nostra autostima aumenterà e così potremmo ottenere sicuramente dei risultati migliori. Noi abbiamo sofferto insieme ai tifosi, insieme alla piazza, insieme alla società per i risultati che purtroppo non sono arrivati negli ultimi tempi e capisco anche la rabbia e la delusione dei tifosi, così come ho percepito la gioia e il calore di domenica quando abbiamo terminato la partita, giocando una partita fantastica e vincendola direi meritatamente contro una squadra come il genere. Ma come si può fare insomma? Ma io credo che ci siano delle buone possibilità, anche se è un'impresa difficile, lo dimostra la classifica, lo dicono i numeri. Però nel calcio, da tanti anni io vivo in questo mondo e nel calcio ci potrebbero essere delle belle sorprese.